Settimane di prove, un rapido sold out a dir poco inaspettato e finalmente Parola di Gaia che spettacolo debutta al Teatro Antidoto. Giuliana Freigli, che è la piccola Gaia di soli nove anni, entra in scena dando vita ad uno spettacolo che racconta del ruolo dell'attore di teatro oggi e dell'utilità del teatro contemporaneo che non deve perdere l'originaria funzione di accompagnare i cambiamenti e distruire l'uomo alla cultura e al bello. Una serata ricca di colpi di scena in cui improvvisazione e preparazione artistica ma soprattutto spontaneità hanno reso tutto perfetto lasciando alle due attrici un'emozione indescrivibile. È stato uno spettacolo, metà canovaccio, quindi manco copione, metà canovaccio e metà improvvisazione pura teatrale con una bambina di nove anni. E questo lo si fa sia perché c'è una dote naturale ma anche perché la sinergia e anche perché ci sono i trucchetti per improvvisare. Quindi questo è riuscito alla grande e la gente a un certo punto non capiva più dove era il copione e dove stavamo improvvisando. Non lo capiva più perché sembra così strano che una bambina di nove anni sappia improvvisare come un adulto. L'emozione è stata tanta tanta tanta. Io mi sono emozionata nonostante sia da anni sul palcoscenico però ero tanto emozionata. E questa emozione è arrivata a diritto al pubblico perché è stato coinvolto dall'inizio alla fine sia con tantissime risate ma con tantissimi spunti di riflessione. La loro chiave vincente ci svela Giuliana Frajica è stata proprio la sincerità con la quale l'artista deve donarsi al suo pubblico che senza alcun dubbio deve contraddistinguere il vero attore di teatro. La piccola Gaia ha lasciato tutti sorpresi per la sua spontaneità e abilità nell'improvvisazione e come da lei stessa ha affermato nonostante l'ansia prima di entrare in scena è stata un'esperienza davvero divertente. Prima dello spettacolo c'avevo un po' d'ansietta però poi appena sono entrata sul palco ho notato che comunque potevo... Eh boh... Maria santa... come devo fare? All'inizio dello spettacolo c'avevo un po' d'ansia però... suggeriscimi. Ma quando mai ti ho detto cosa devi dire? Quando facciamo i video ti dico cosa devi dire? No ma un conto è la telecamera, un conto è lo spettacolo ok? Ma quando mai quella è l'impostazione del lavoro? Io imposto tu viaggi? Maria santa... Vai! Ti sei divertita almeno? Sì mi sono divertita. Ok. Ma vorrai recitare un'altra volta a fianco di Giuliana o una volta basta e avanza? No no voglio recitare un'altra volta. Quindi se ci saranno delle repliche sarai contenta? Sì. Anche perché questo spettacolo mi è servito che io non ho mai ballato il tip tap in tutta la mia vita. E per la prima volta l'ho ballato e ci sono riuscita. Il debutto di Parola di Gaia che spettacolo ha reso entrambe piuttosto soddisfatte. E così già dal giorno dopo all'entusiasmo della piccola Gaia di voler tornare in scena Giuliana non esclude la possibilità di replicare lo spettacolo durante la stagione autunnale. Spero di sì. Al momento diciamo ci godiamo questa fortissima emozione di ieri perché veramente è stata molto molto forte. Perché sentire il pubblico dopo un anno e mezzo così dritta dritta alla pancia è stato veramente grande. È stata un'emozione troppo forte. Perché l'ho sentita ridere di cuore e poi quando si sono accese le luci e li ho visti commossi per il finale insomma mi commuovo io ancora cioè per me è stato grandioso quindi adesso ci godiamo questo momento e chissà in autunno chissà chissà. No vabbè hai preso Dante Maria io esco. Esci esci vai vai ma vai da Maria Nazionale sai quanti ne incontri come lei vai vai ma poi aspetta una cosa vorrei capire. A cosa ti serve un insegnante di teatro se vuoi fare la televisione? Ancora con sta televisione la televisione è un mezzo per arrivare. A mare arrivare a mare a negare nel mare del superficiale questo è. Bib è giamaggio.